In sé settimane sono stati avviati ed in parte ultimati 149 cantieri per la ricostruzione dopo l'alluvione di Livorno, Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Un record italiano, ha voluto sottolineare il commissario per il dopoalluvione e presidente della regione toscana Enrico Rossi. Sull'impiego di 32 e 35 milioni di euro, il commissario ha trovato il consenso unanime tra i comuni e i soggetti interessati, mentre sul cosiddetto elenco C, che riguarda il rischio residuo, la dotazione di poco più di 3 milioni di euro è giudicata dallo stesso commissario insufficiente. Per chiudere la partita, a nostro parere, ce ne vorranno altri 20, per sistemare al meglio, se non dobbiamo dire definitivamente Rio Maggiore, soprattutto per la parte dove c'è la popolazione, sul tombamento, quello è un elemento di rischio particolare, per fare anche altri interventi che, come si dice, riducano il rischio. E troveremo il modo per avere queste risorse, faremo uno sforzo in più come regione toscana. L'obiettivo, ha detto Rossi, è quello di lasciare una situazione migliore di quella che c'era prima dell'alluvione, per evitare il ripetersi di questa tragedia. Non si può scherzare, sono morte otto persone, quindi al bando le polemiche, noi non stiamo facendo nessun blef, non stiamo facendo nessun gioco, stiamo lavorando seriamente. Sarebbe cosa gradita che anche altri così facessero e magari mettessero anch'essi delle risorse, perché non sta scritto in nessuna legge, in nessuna Costituzione, che di fronte ad un evento di questo tipo la regione toscana debba intervenire in maniera così massiccia e così pesante. Il commissario Rossi ha infine ricordato come la regione ha stanziato altri 8 milioni di euro dal proprio bilancio. Sono anche piuttosto abbondanti per dare un primo sostegno alle famiglie, soprattutto alle famiglie che non versano in condizioni economiche agiate.